designazione rita grande allo grazie che vuoi non sai fare di meglio sì bel lavoro aggiornamento rilevato possibile collasso consigliato trasferimento nella zona sicura indicata a Lancio di rifornimenti in arrivo. Lancio di riforni 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 in arrivo. Attenzione! Previsto ulteriore collasso. Trasferitevi nella zona sicura. Trasferitevi nella zona sicura. Lancio di riforni in arrivo. Aggiornamento. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Trasferitevi nella zona sicura. Previsto ulteriore collasso. Raggiungere le zone sicure indicate. Trasferitevi nella zona sicura. Trasferitevi nella zona sicura. Trasferitevi nella zona sicura. Aggiornamento. Aggiornamento. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Allarme. Lancio di rifornimenti in avvicinamento. Attenzione! Attenzione! Rilevata instabilità critica. Evacuazione nella zona sicura in corso. Attenzione! 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 al sicuro al sicuro al sicuro area della missione sicura ben fatto